hai visto hanno tolto le restrizioni che bello siamo tutti felici però poi le rimettono poi rimettono ci tengono per la mattina ti svegli c'è un bel sole che bello solo come sono felice come mi sento libero domani invece c'è nuvolo che è triste come mi sente triste anche la meteorologia ci tiene per le palle perché stai lì ad aspettare che ci sia qualcuno a dirti se sentirti libero oppure no hai bisogno di andare al bar per sentirti libero non ti fanno entrare al bar trova delle alternative ti compri da bere chiami un amico e poi è un po di festa non hai bisogno di andare al bar per essere libero non beh non so vediamola questa perché questa cosa del bar è importante